Grazie a tutti. Il background importante dal punto di vista della cultura anglosassona è molto legato ai giovani, a quelli che sono i settori giovanili, quindi non poteva perdere l'occasione di partecipare a un evento di questo tipo dove si trattano in maniera specifica queste tematiche. Dicevo di Prozone Amisco, qualcuno di voi forse conoscerà Prozone che è stata fondata nel 98 in Inghilterra, qualcun altro conoscerà il gruppo Amisco, fondata invece in Francia nel 95, è stata la prima azienda che ha proposto sul mercato internazionale il tracking system per l'analisi di dati fisici da binaria, quindi agli scout classici, tecnico-tattici. Per una decina d'anni, 15 anni, si sono fatti una fiera competizione, nel 2011 è successo che le due aziende si sono messe insieme, quindi per lavorare insieme come gruppo Amisco Group, Prozone e Amisco, mantenendo il marchio Prozone per i prodotti pro e il marchio Amisco per i prodotti dedicati ai media, perché non è magari tema di interesse oggi in questo contesto, però tutti i prodotti vengono poi rivisitati, adattati per quelle che sono poi le esigenze anche televisive, chiaramente con più immagine, più grafica rispetto alla verticalità che invece fa parte del vostro lavoro. Nel 2012 si è stata avviata una partnership da Amisco Group con Kisport, dell'ingegnere Marco Lini che poi curerà l'intervento scientifico. Kisport che è la prima azienda che ha brevettato e certificato nel mondo un sistema basato su criteri matematici. Da quel tipo di esperienza è nato un gruppo che oggi per numeri è il gruppo principale al mondo, con 10.000 partite analizzate dal punto di vista della tattica e della tecnica nei principali campionati d'Europa e non soltanto. 2.500 partite invece analizzate dal punto di vista anche fisico e qui entriamo nella tematica che più vi interessa perché chiaramente oltre alle partite c'è poi tutta l'analisi e il monitoraggio degli allenamenti. Con un database come vedete di 60.000 calciatori nel mondo è un gruppo che di fatto opera su tutti i continenti con oltre 240 squadre, federazioni, leghe che si avvalgono dei prodotti e dei servizi ripeto con Marco Amisco, Prozon fino a che non si erano poi messe insieme e 36 paesi, 35 paesi ce n'è un altro in arrivo. L'aspetto importante di questo per chi opera poi dopo nel campo dell'analisi e del monitoraggio degli allenamenti è il fatto che ci siano centri di produzione in molte parti del mondo che consentono un ritorno molto veloce delle analisi perché specialmente su squadre che operano magari in competizioni internazionali avere più centri di produzione che la domenica sera finita la partita giocando al martedì magari in Coppa ti preparano l'analisi diventa un fattore determinante sulle competizioni di dettaglio ma anche poi sulla pianificazione e sulla gestione a lungo periodo per chi invece opera nei settori giovanili quindi con una pianificazione magari annuale degli interventi. Parlavo di innovazione tecnologica viene applicata su tre aspetti quindi l'aspetto dell'allenamento l'aspetto dell'analisi delle partite proprie e degli avversari e l'aspetto che in questo contesto magari interessa meno che quello dello scouting chiaramente per i direttori. In occasione dei mondiali vengono lanciati cinque nuovi prodotti barra servizi di interesse quindi molto legati al discorso dell'innovazione tecnologica i GPS a frequenza reale fino a 50 Hz quindi per reale intendo certificata e assolutamente verificabile quindi verranno lanciati con il mondiale con le 12 nazionali che seguiamo appunto nel campionato in Brasile. Un altro aspetto interessante per l'Italia e per l'ambivalenza sia partite che allenamenti è lo sviluppo dei nuovi sistemi mobili di tracciamento che in paesi come l'Italia dove purtroppo si investe poco nelle infrastrutture o comunque ci sono problematiche importanti dal punto di vista delle infrastrutture vanno a sostituire quella mappatura di sistema fissi di cui parlavo nella slide precedente quindi con tutti gli stadi coperti da installazioni fisse come è tradizione magari nel mondo anglosassone. Da noi ci sono problematiche di quel tipo quindi sviluppare sempre più all'avanguardia sistemi di tracciamento mobili funzionali portatile eccetera aumenta e favorisce il lavoro. Nuovo sistema per l'analisi biomeccanica e poi le ultime due cose molto interessanti riferendomi a quanto ho sentito anche stamani da illustri relatori Prozone Kinetic è un sistema illimitato. Stamattina si parlava di talento durante una delle lezioni si parlava di talento in divenire noi abbiamo effettivamente dei parametri oggi per analizzare per valutare quello che è il talento fisico e non soltanto perché lo stesso concetto viene riproposto poi anche per la tattica per la tecnica eccetera. Questo sistema illimitato permette un domani che nuovi parametri verranno immessi o comunque andranno ad integrare quelli che usualmente vengono utilizzati oggi di poter fare l'analisi su tutto lo storico che io ho a disposizione. In altre parole se io vado per esempio a controllare lo sviluppo di un settore giovanile quindi di atleti che partono appunto dalle categorie inferiori del settore giovanile fino alla primavera e poi alla prima squadra negli anni oggi magari in un analizzo dei parametri domani mi serviranno con questo sistema riesco a ripercorrere da parte di un giocatore tutta una serie di elementi che invece non ho considerato sul momento e possono aiutarmi a costruire una pianificazione poi anche per quello che è il futuro di quel settore giovanile. L'ultimo elemento poi non vi annoio più e passo alla parola Mirko per l'analisi e quindi per l'intervento scientifico è il Key Sport Online è una piattaforma anche questa di gestione sia degli allenamenti che delle partite e chiaramente che può essere appoggiata sulle piattaforme della società per un ovvio motivo e un'ovvia ragione di segretezza e di riservatezza dei dati. Questi sono alcuni elementi che io vi ho dato chiaramente chi volesse o fosse interessato ad approfondirli sul sito dell'azienda o al nostro stand all'ingresso trova tutti i riferimenti, i miei personali e aziendali quindi massima disponibilità ad approfondirli. Vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola al legger Marco Lini. Grazie per l'applauso che sicuramente era per me se uno è un po' più alto si abbassa. Dunque l'obiettivo del mio intervento è quello di proporvi un approccio nuovo uno sguardo verso il futuro per quello che riguarda l'analisi della prestazione ed eventualmente anche per l'individuazione del talento che richiede anche come diceva Gualtieri prima un approccio globale rispetto a quella che è la performance. Andiamo subito al sodo. Allora, una gara sui 100 metri. Abbiamo 4 atleti. Qual è il parametro più significativo per valutare la prestazione dell'atleta? Contare il numero di passi? No. Sicuramente il valore più significativo è misurare il tempo di percorrenza. Quello che ha percorso i 100 metri in 10 secondi è sicuramente probabilmente ma sicuramente il più talentuoso tra i 4 atleti. Passiamo al calcio. Questi sono 20 minuti di una partita del Barcellona. Sono elencati, non si vedono tutti, ma alcuni parametri tra i tanti che vengono analizzati in occasione delle partite. Parametri riportati per 3 giocatori. Da questi parametri riuscite a capire chi è il giocatore, il calciatore più talentuoso o quello che in questi 20 minuti ha fatto un gol e un assist? Probabilmente no. Anzi, quello che ha fatto il gol e l'assist, che è quello centrale, è quello che aveva anche fatto registrare i valori più bassi, decisamente più bassi. Guardate di che valore si tratta. Ok. Allora, facciamo un passo avanti. La domanda è, ma chi corre di più vince di più? E quindi, per rispondere a questa domanda, non vedete la prima parte, ma ve la racconto io, abbiamo analizzato 500 partite della stagione 2013-2014 dei maggiori campionati europei, avendo analizzato un po' tutti i parametri notti allo stato dell'arte e abbiamo cercato di verificare le possibili correlazioni tra i diversi parametri, tra i parametri risultati delle partite, tra i parametri e la posizione in classifica o i punti di ciascuna squadra. Quali sono stati i risultati? Beh, velocemente, per farvi vedere che cosa abbiamo fatto, ci sono o no correlazioni tra la distanza percorsa e gli altri parametri? Alla vostra sinistra, distanza, distanza ad alta velocità, non ci sono. Distanza e distanza ad alta potenza, non c'è tutta questa correlazione. Distanza percorsa e potenza metabolica, nemmeno distanza percorsa e numero di recuperi, dove i recuperi sono stati calcolati, in questo caso basandosi su una soglia di velocità, nemmeno si trovano un'ottima correlazione, un'altissima correlazione tra i metri percorsi o il tempo trascorso ad alta accelerazione e ad alta decelerazione, come ci si può aspettare, uno quando accelera poi ha bisogno anche di fermarsi, e tra la distanza percorsa ad alta accelerazione e il numero di sprint che è calcolato basandosi su una soglia di potenza, che è una cosa che ci potevamo anche aspettare, visto poi come andiamo a calcolare la potenza. Ci sono correlazioni tra i diversi parametri e i punti in classifica o la posizione di classifica, sostanzialmente niente, qui vedete la correlazione tra la distanza ad alta velocità e i punti in classifica o la potenza metabolica e i punti in classifica. Allora, tra il primo e il secondo tempo che cosa succede? Le uniche cose che abbiamo ritrovato, ma in 500 partite, è che la potenza metabolica è significativamente maggiore nel primo tempo, l'anaerobic index è significativamente maggiore nel primo tempo, in tutti gli altri parametri non risultano differenze significative, cioè a volte si corre di più nel primo tempo, a volte di più nel secondo, ma non c'è uno standard. Quindi il risultato è che a livello di correlazioni tra i parametri, quello che abbiamo trovato è che il numero di sprint stabiliti, calcolati su una soglia di potenza metabolica, risulta correlato alla distanza totale, alla distanza ad alta velocità, alla distanza ad alta accelerazione e all'anaerobic index. La squadra che gioca in casa ha dei valori leggermente superiori alla squadra che gioca in trasferta, ma ci si distanza di poco. E infine, nessun parametro è correlato al risultato della partita, nessun parametro è correlato alla posizione in classifica, nessun parametro è correlato ai punti in classifica. Quindi, vince chi corre di più, la risposta è no. Allora mi sono chiesto ma questi valori fisici, almeno quelli noti allo stato dell'arte, sono valori da serie A, cioè sono valori di alto livello oppure sono sviluppabili anche da una persona che non sia un calciatore di alto livello, ma che sia una persona che sta bene fisicamente. Allora, per verificare questo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo stabilito un percorso di 90 minuti dove, in teoria, abbiamo riprodotto quelli che sono gli sforzi che si fanno in una partita e abbiamo chiesto a 20 studenti di scienze motorie, ciascuno dei quali ha riprodotto diciamo lo sforzo per tre volte, di completare questo percorso. Abbiamo monitorato il tutto con gli stessi sistemi che utilizziamo per monitorare le partite. Il risultato qual è? È che gli studenti hanno fatto registrare gli stessi valori che si trovano in serie A. Si tratta di studenti che non sono specializzati nel calcio, quindi non hanno alcun tipo di abitudine a fare questo tipo di sforzo. Hanno fatto registrare gli stessi valori delle competizioni d'élite, ma c'è un però. Però, alla fine di una brusca decelerazione, quando bisognava fare il cross, la palla andava alle stelle. Allora, bisogna parlare anche di questioni che hanno a che fare con la sfera un po' tecnico-tattica. Ritorniamo alla slide iniziale. Prima si parlava di dati fisici, si parlava di 100 metri. parliamo di dati tecnico-tattici, lasciamo in stand-by per un attimo la prestazione fisica. Numero totale di passaggi, uno dei tanti parametri statistici che vengono rilevati. Qui ci sono quattro giocatori di cui uno è un fenomeno a fare i passaggi, a fare i lanci. Gli altri tre sono giocatori che non hanno questa peculiarità. Chiaramente, contando, dandovi questa tabella, è impossibile capire chi dei quattro sia quello bravo a giocare a calcio. Molte volte le statistiche sono proprio dei numeri inutili quando non vengono diciamo definite in modo pragmatico e viene fuori che un giocatore che ha un talento indiscutibile risulta che ha i piedi a banana. Allora, questo era lo stato dell'arte e il fatto è che le varie voci statistiche vengono poi definite un po' come si fa anche per quelle fisiche. Si assegna una palla persa quando un giocatore è l'ultimo della sua squadra ad essere stato in possesso palla. Ad esempio, allora vi faccio vedere questa scena perché poi bisogna parlare di cose pratiche. Qui c'è un difensore che effettua questo lancio. Il portiere recupera palla. Ora, se la riguardate, il difensore è l'ultimo della sua squadra in possesso palla ma se io racconto all'allenatore che questo è un lancio sbagliato che questa è una palla persa mi dice che non capisco niente di calcio effettivamente questo è un lancio perfetto in termini di spazio e di tempo però l'arbitro avrebbe potuto fischiare in questo caso il calcio di rigore che era netto sull'attaccante se l'arbitro avesse fischiato il calcio di rigore al giocatore che ha fatto il lancio sarebbe stato assegnato un assist vincente diciamo che la stessa scena bisognerebbe valutarla in modo oggettivo allo stesso modo indipendentemente ok allora questo è lo stato dell'arte per migliorare questa cosa che cosa ho pensato di fare questa è una scena di una partita e vedete che c'è questo giocatore rivediamo tra poco il numero 8 qui entra in possesso palla questa tra l'altro era una partita Italia-Francia insomma decide di fare questo lancio e il portiere della squadra avversaria recupera palla ok allora queste sono le proiezioni dei giocatori nel momento in cui il numero 8 che è qua ha effettuato il lancio ora se vogliamo fare un discorso molto terra terra se io voglio passare la palla a un mio compagno che ne so a Totti che si trovava in questa posizione è evidente che devo calciare la palla in questa zona del campo che è quella che Totti può raggiungere prima degli altri giocatori se la calcio verso Buffon Totti non la prende di sicuro questo è banale quello che non è banale è riuscire per davvero a misurare quali sono i punti del campo che un giocatore può raggiungere prima degli altri vi faccio vedere subito un esempio concreto se io considero che i giocatori sono tutti uguali cioè si spostano tutti alla stessa velocità partono tutti nello stesso momento e così via posso applicare uno strumento matematico di 150 anni fa che si chiama diagramma di Voronoi e che mi associa ad ogni giocatore un'area del campo questo significa che i punti all'interno di quest'area qua sono a livello di metri più vicini a Totti che non a tutti gli altri giocatori quindi potrei dire che se avessi passato la palla in questa zona di qua Totti si sarebbe poi trovato in possesso palla in uno contro uno col portiere poteva essere il passaggio ottimale ma in realtà ho detto che questo sistema considera che i giocatori sono tutti uguali quindi è una cavolata non può funzionare per farlo funzionare bisogna considerare le velocità a cui sono in grado di spostarsi i giocatori le accelerazioni che sono in grado di produrre ma ad esempio Totti in questa azione era fermo e con le spalle rivolte alla porta il difensore francese stava già correndo per andare ad occupare quest'area quindi se io calcio la palla qua ci arriva sicuramente per primo il difensore francese considerando tutta questa serie di variabili che sono poi variabili fisiche perché si tratta di raggiungere un punto prima degli altri il grafico si evolve in questo modo e vedete che l'area occupata da Totti siccome era fermo si riduce di molto e ma non lo approfondiamo adesso si può anche valutare quello che sarebbe stato il passaggio ottimale con il movimento ottimale del giocatore che deve ricevere la palla questo non ci interessa vi faccio solo quest'altro esempio ora vedete che la squadra blu il numero 8 della squadra blu che si trova in questa posizione tra poco riceve palla eccolo ora ha ricevuto palla ora vedete che ha la possibilità cioè a campo libero davanti a sé e guardate il movimento che sta facendo il numero 3 che va ad occupare quest'area questo significa che se il numero 8 calcia la palla qua il numero 3 ci arriva di sicuro per primo e può giocare l'uno contro uno col portiere ora il numero 8 è in possesso palla c'ha un secondo due passagliela tre quattro e poi l'azione sfuma lì allora se non gliel'ha passata o non l'ha visto o l'ha visto ma pensava di non essere in grado di riuscire a fare quel passaggio oppure non l'ha visto perché non è capace di correre a testa alta e quindi ha bisogno di guardare i piedi di guardare la palla ma un motivo da qualche parte c'è allora ritorniamo a noi prima si parlava del numero totale di passaggi ottimizziamo la cosa la faccio molto breve trattiamo i passaggi come si trattano ad esempio le distanze percorse cioè a voi di sapere qual è la distanza totale penso che vi interessa relativamente poco andate a calcolarvi quanti metri sono stati affatti in diverse soglie di velocità di potenza o di accelerazione qui è la stessa cosa invece di avere il numero totale di passaggi introduciamo un coefficiente di difficoltà e quindi andiamo a vedere quanti passaggi sono stati fatti ad esempio con un coefficiente di difficoltà molto alto questi erano i quattro giocatori dell'analisi di prima allora se io mi trovo questi dati qui ho un dato che mi sembra un pochino più utile di avere quest'altro tipo di analisi ok chiudo facendovi vedere una conclusione di una tipologia di approccio globale che include che cosa intanto vi faccio vedere questa scena la inquadra tutta questa è una partita tra Parma e Fiorentina c'è Biabiani sulla destra che adesso effettua un cross e tra poco Cassano entra in possesso di palla e fa questo cross allora prima Tommaso vi ha parlato di un brevetto che abbiamo sviluppato e che sfocia sostanzialmente in una serie di formule che consentono di avvicinarci ad una valutazione della prestazione più oggettiva possibile adesso chiaramente magari se è una cosa interessante approfondiremo in un altro momento ma sostanzialmente gli indici che vi farò vedere che sono stati analizzati su questa scena sono un indice di efficienza fisica che cosa significa semplicemente ipotizziamo che il giocatore è chiamato a fare uno sprint faccio un'altra premessa faccio un passo indietro sapere che un giocatore ha fatto 300 metri ad alta accelerazione o 400 metri ad alta potenza o un certo numero di sprint mediamente in 90 minuti è un parametro che ci può far capire globalmente che cosa ha consumato il giocatore ma diciamo che puntualmente quando poi avviene un gol o un'azione interessante avere la media ci interessa fino a un certo punto allora in quell'azione di prima Cassano doveva raggiungere una palla che era stata che era stata calciata e doveva raggiungerla nel minor tempo possibile perché dietro aveva quadrado che non è proprio uno dei giocatori più lenti del campionato e quindi dove era chiamato praticamente a fare il suo massimo sforzo fisico dal punto di vista qui si trattava di uno sprint perché doveva raggiungere una palla che era 20 metri avanti a lui ok lui è in grado di fare uno sprint come valore massimale in tre secondi per raggiungere una palla a 30 metri ci ha impiegato due secondi e mezzo ok non ha raggiunto il 100% della sua efficienza fisica in quel momento stress tutti gli sforzi che vengono fatti durante la partita dai giocatori che hanno a che fare con tutti i parametri che vi potete immaginare dal fatto di correre accelerare cambiare direzione ad alta velocità eccetera eccetera vanno ad incrementare quello che è lo stress fisico che il giocatore deve sopportare chiaramente a inizio partita supponiamo che lo stress fisico sia a zero all'aumentare dello sforzo tutti questi parametri vanno ad aumentare l'indice e infine c'è un indice che ha a che fare con la prestazione tecnico-tattica cioè se la scelta attuata dal giocatore è quella ottimale prevista dai criteri matematici oppure si discosta e di quanto si discosta allora questo è l'andamento della velocità nel tempo precedente al cross che ha fatto Cassano e qui ha raggiunto un picco di velocità per esempio di 8 metri al secondo che magari non si distacca troppo da quello che è il suo picco ottimale quindi uno sforzo notevole ha fatto lo sprint a un certo punto ha stoppato la palla e ha fatto questo diciamo picco di decelerazione perché c'era quadrado che poi lo stava pressando e alla fine è riuscito comunque a fare il cross e il cross è andato a buon fine e quindi sostanzialmente in questa scena a livello di efficienza fisica quello che lui ha fatto prima di raggiungere la palla rappresenta il 75% di quello che lui era in grado di fare lo stress che lui ha accumulato prima di fare il cross equivale all'85% di quello che può essere lo stress che lui è in grado di accumulare e il cross ha avuto un'efficienza del 90% rispetto a quello che poteva essere la soluzione ottimale ora se io ho un giocatore che dopo aver avuto uno stress fisico pari all'85% e riesce ad avere a fare a raggiungere una prestazione tecnico-tattica con una soluzione che è uguale praticamente alla soluzione migliore io penso che sicuramente quel giocatore in quella partita non stava male e se abbiamo bisogno di valutare il giocatore che cos'è che cosa fa e se sa giocare o no a calcio penso che sia imprescindibile unire tutti i vari aspetti tecnici tattici e fisici grazie grazie a tutti grazie a tutti